Nuovi rumor, eh? Bene. Non abbiamo più sentito parlare della serie RTX 3050 Desktop da gennaio di quest'anno, quando la scheda è apparsa per l'ultima volta sulle roadmap di Nvidia. E Nvidia non sembrerebbe aver abbandonato del tutto l'idea di introdurre delle SKU Desktop basate sul GA 107. Non ci sono stati più aggiornamenti sulla serie per quasi un anno, nonostante l'azienda abbia rilasciato una versione mobile delle 3050 Ti e 3050, senza parlare di alcun modello dedicato ai PC Desktop. Ci pensa Coppite. Probabilmente il leaker numero uno del momento, il più affidabile per quanto riguarda i rumor a tema Nvidia, perlomeno, sta ora sostenendo che ci sarebbero nuove specifiche per entrambe le SKU. Mettiamo le mani avanti. Lo stesso Coppite ha chiaramente etiquettato entrambi i tweet che ha pubblicato nei giorni scorsi come rumor, anche se siamo abbastanza sicuri del fatto che non siano basati su mere speculazioni. Anche perché se così fosse non si sarebbe lanciato in due tweet o quantomeno l'avrebbe fatto capire come fa di solito. Secondo quanto detto, la GeForce RTX 3050 Ti sarebbe dotata di una GPU GA106 150 con 3072 CUDA Core e 6 o 12 GB di memoria come configurazione. La scheda si porrebbe come concorrente diretto della 6600 non XT, il che significa che la variante da 6 GB potrebbe dover aspettare un rilascio da parte di AMD della variante 4 GB della sua 6600, mentre ci si potrebbe concentrare sul modello da 12 GB in un secondo momento. A differenza invece della Ti, la 3050 liscia desktop sarebbe caratterizzata da una GPU GA107 350 con un total graphic power maggiore. E questo dato nello specifico non è stato spiegato all'interno del tweet, il tutto si riduce in due parole, ovvero More TGP che dici. Anche se si potrebbe supporre che quello che volesse dire era che la GPU GA107 non verrà sfruttata a piene specifiche che prevedono 2560 CUDA, bensì qualcosa a metà strada tra i 2304 inizialmente vociferati e la configurazione di GPU totalmente sbloccata. Questo modello sarebbe caratterizzato da un bus di memoria 128 bit che lascia come configurazione di memoria papabili il taglio da 4 e da 8 GB di memoria VRAM. Per chiudere, sono stati due tweet molto veloci. Ecopyte non ha menzionato nessuna possibile data di lancio per questa serie 50 e al momento non ci sono neanche stati altri aggiornamenti o rumor in proposito. Anche se se dovessero arrivare nuove informazioni, come sempre, non mancherò di farvele sapere qua sul canale ovviamente oltre che sul sito. Quindi continuate a seguirci. Per ora voi fatemi sapere cosa ne pensate di queste potenziali schede future? Vi aspettate un lancio disastroso? Sarà forse una risposta di fascia medio-bassa ai rumor sempre più insistenti sulle Intel Arc dedicate proprio a questa fascia? Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e attivare la campanella per ricevere, come sempre, tutte le notifiche ogni volta che esce un video sul canale. Quindi attendendo novità ulteriori, noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!